Un saluto a tutti i nostri amici web ascoltatori di Liberi.tv e dello spazio Certi Diritti. Quest'oggi abbiamo in nostra compagnia una cara amica, Maria Gigliola Tognollo. Ciao Maria Gigliola Tognollo, buongiorno, anzi buonasera. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, responsabile dell'Ufficio Nazionale Nuovi Diritti CGL e componente del direttivo dell'Associazione Radicale di Certi Diritti. Benissimo, allora Gigliola, io siccome oggi è l'8 marzo abbiamo deciso di dedicare una puntata speciale all'8 marzo e il titolo di questa puntata è la relazione tra omofobia e transfobia e femminicidio. Io vorrei partire proprio da questo titolo e chiederti come donna, ma come responsabile anche dell'Ufficio Nazionale Nuovi Diritti della CGL, cosa ne pensi di questa relazione tra l'omofobia, la transfobia e il femminicidio? Io penso che di fondo il problema, cioè la malattia degli omofobi, degli transfobi e di chi poi commette questi omicidi. Si è un misto molto composto di ignoranza, di prevenzione, di violenza, di arroganza, penso che ci siano moltissimi punti in comune e credo che sia un accostamento molto adatto, molto giusto, soprattutto oggi e soprattutto poi pensando anche per esempio tutte le sedi della CGL hanno esposto lo striscione contro la violenza alle donne io penso che forse ci si poteva fermare a dire violenza perché poi abbiamo non solo la violenza contro le donne che è diventata particolarmente perniciosa, ma anche la violenza contro omosessuali, contro transessuali per non parlare poi delle prostitute, insomma di tutta quella classe di persone che per una oscura tradizione sono considerate deboli, sono considerate diciamo in qualche modo inferiori. Certo, uno dei punti proposti dall'Associazione Radicale ai Certi Diritti è nell'appello proprio io e impegno che è rivolta ai parlamentari e non solo. Esattamente nel terzo punto si recita combattere i crimini d'odio per sessofobia, omofobia e transfobia. Quanto pensi sia importante una legge che tuteli dai crimini, come dicevi tu poc'anzi, di odio legati soprattutto all'assessofobia? Io credo che il lavoro sia molto complesso, naturalmente la legge, per esempio l'estensione di alcuni punti della legge Mancino era molto importante, sarà molto importante, adesso vedremo che decisioni prenderanno i nuovi parlamentari, semmai ci sarà un Parlamento e un governo, ma credo che ci sia di fondo importantissimo un lavoro di istruzione, di spiegazione, di disvelamento di queste realtà che sono sempre abbastanza poco conosciute, travisate anche per colpa dei media, della stampa che ci forniscono quotidianamente delle semplificazioni molto brutte, molto volgari. Un lavoro che parte sia dalla scuola, dall'educazione che limita anche le battute, le barzellette, le sceneggiate di certa televisione che sono veramente orribili e poi arriva anche alla legge, però credo che la legge di per sé non sarebbe assolutamente sufficiente. Quindi pensi che comunque bisognerebbe intervenire prima nella società, nella scuola, dicevi anche nei media, perché abbiamo mi pare avuto di recente l'esempio, il brutto esempio, mi pare che era dei fratelli d'Italia o come si chiamavano loro, che prendevano un po' in giro anche quei due ragazzi gay che volevano sposarsi a Sanremo, hanno fatto quella bella scenetta con i cartelli in cui alla fine chiedevano il matrimonio e poi sono stati presi in giro. Molta stampa si è schierata, logicamente a favore dell'uguaglianza, ma ci sono state anche alcune reazioni, sempre in difesa della famiglia tradizionale. Sì, ma io credo che si possa difendere qualunque tipo di famiglia senza arrivare a dire quello che dicevano i cartelli di quei due mendicati. Io credo che tra l'altro andassero buttati fuori, insomma adesso se non si butta mai fuori nessuno da un partito e le scuse non mi bastano, era veramente un baratro di volgarità e di idiozia, perché oltre ad essere volgare anche idiota, quindi voglio dire che te ne fai di due così in un partito, già la politica è una questione molto seria. e quindi sì, diciamo ecco c'è tutta questa facilità nell'offendere le barzelette di Berlusconi, voglio dire i luoghi comuni, poi si riverberano nella scuola, insomma abbiamo avuto dei ragazzi che sono o sono spariti o si sono addirittura uccisi, per questo clima di irrisione, di presa diciamo… Non inclusione, non inclusione nella scuola… Non inclusione, esatto, disumanità e per non parlare poi di quello che riguarda le persone transessuali che in nessun modo possono nascondere la loro situazione, per cui sono tra le più bersagliate, ecco tra le più colpite e ostacolate in tutto, dal lavoro alla scuola, ha comunque in tutti i casi una vita tranquilla, serena, ad ogni momento hanno la riprova dell'ignoranza, dell'arroganza, della cattiveria di molte persone, basta che vadano a ritirare un pacco, se non hanno alla posta, se non hanno il nome giusto sui documenti o un colloquio di lavoro o qualunque altra questione che le metta in relazione con nome e aspetto fisico… I controlli in aeroporto sono una cosa molto… Controlli, sì, ma adesso per esempio in molti seggi, qualcuno siamo riusciti a farla rientrare la questione, ma in molti seggi c'è la divisione tra uomini e donne, ci sono le file separate e quindi il giorno dopo le elezioni normalmente c'è sempre un… abbiamo un riscontro di persone che sono rimaste confese anche dalle occhiate, dalle battute e che bisogno c'è però di fare una cosa del genere, che bisogno c'è di scrivere sui documenti se sei maschio o se sei femmina, cioè voglio dire, credo che un paese civile potrebbe su questo punto, che poi è un punto che porta anche nella situazione di intersessualità a intervenire prematuramente, mentre la persona nulla può fare, perché di solito è un neonato, questa necessità subito di stabilire a che sesso appartieni e di scriverlo, non so poi che quale sia questa utilità così impellente. E lì praticamente ci possiamo ricollegare a uno degli altri punti sempre del programma di impegno dove dice che chiede di far decidere loro il proprio futuro, sia per quanto riguarda le persone transessuali che per quanto riguarda le persone intersessuali, lì per quanto riguarda le persone intersessuali sono i genitori a scegliere o sono i medici a scegliere, non scelgono loro il sesso. In genere si tratta di un neonato che si presenta con delle anomalie genitali, per cui il chirurgo sceglie magari la strada meno faticosa per ripristinare immediatamente la situazione e adesso questo penso che sia evidente, che non è la strada giusta, ci sono verificate in tutto il mondo delle enormi tragedie, anche di ragazzi che erano in una situazione di estremo disagio senza sapere nulla del perché e come mai non si sentissero in se stessi, è una situazione diversa dal transessualismo, però tuttavia le radici del problema, dell'odio e della violenza che c'è nelle persone, l'istanza di incastrare tutto in caselle, sacrificando la libertà, la libera scelta, lo sviluppo personale delle persone è sempre quello. Certo, certo. Giulio, oggi è l'8 marzo della festa della donna, ma purtroppo a fatica, io dico perché è sempre l'uomo a soprassedere su tante situazioni, almeno in ambito lavorativo, a prevaricare, scusa, oltre che nella politica. Io dico che scontiamo un certo gap generazionale che probabilmente è colpa di una società fallocente, centrica, in cui è sempre il maschio a prevalere, se non addirittura una situazione di famiglia patriarcale, in cui la donna è vista sempre come persona che deve stare al suo posto, addirittura nelle regioni del sud in casa e comunque in ambito lavorativo deve faticare molto. Tu cosa pensi di questa situazione? La situazione permane grave perché si pensa ad avere fatto tanti chilometri, chiamiamoli così, nella storia con grandi donne e anche grandi uomini che hanno portato avanti discorsi di libertà personale. Poi però ci sono stati tutti questi governi, alcuni particolarmente colpevoli, altri per meno, ma nessuno assolutamente innocente, che hanno scaricato sempre sulle donne nel peso di uno stato sociale che non riuscivano a finanziare. Per cui è normale che la donna accudisca, magari resti a casa per i figli, resti a casa per i vecchi. È normale che si scarichi su di lei tutta una serie di difficoltà, di strutture mancanti, mancano gli asili, mancano le strutture per le persone anziane e non c'è nemmeno un'educazione che avvii la persona anziana a non dipendere dai figli e magari però avere una struttura dove vivere la sua vita, le sue difficoltà se ne ha, quando ne avrà, non c'è nemmeno un'educazione in questo senso. Si pensa che la donna se proprio deve lavorare, però prima ci deve essere tutto il resto e anche quando molte compagne obiettavano contro il fatto dell'andata in pensione paritaria con l'uomo, lo facevano secondo me con una ragione sbagliata perché si diceva, perché poi la donna c'è altre cose da fare, deve seguire qui, deve seguire là, insomma è chiaro che una persona deve scegliere, uomo o donna deve scegliere quello che vuole fare della propria vita, però non deve essere condizionata fin dall'infanzia al pensiero di essere la serva, deve essere libera, se vuole dedicarsi alla famiglia deve poterlo fare, se vuole avere una famiglia e lavorare deve poterlo fare e non deve essere penalizzata per questo. Certo, certo, mi sembra giusto. Gigliola, guarda, Susanna Camusso è il segretario generale della CGL e rappresenta uno dei validi esempi di donne forti e caparmi in un paese che purtroppo le vede poco considerate, immagino che tu la conosca da vicino, ci potresti raccontare, non so, qualche aneddoto che ti è rimasto impresso, parlare un po' di lei? Beh, intanto è una forza della natura, questo si vede da come si pone, alta, bionda, molto… insomma non è una piccola donna, si vede che non è una donna indifesa, io la conosco da diversi anni è sempre stata un forte sostegno alla mia battaglia per la laicità dello Stato, a sostegno della laicità dello Stato noi insomma diciamo 25 anni fa alcuni di noi hanno cominciato in CGL a parlare di gay, lesbiche, trans e di tutta una serie di questioni che poi sono andate anche sulla fecondazione assistita, sulla libertà della rete adesso insomma sul testamento biologico, tutti fatti che erano attinenti all'autonomia dello Stato rispetto al Vaticano cosa che pare sia così difficile da capire nel nostro paese e una delle più grandi alleate in questa battaglia, anche se stava a Milano, anche se faceva altro è sempre stata lei che frequentava, indipendentemente dal fatto che noi facessimo quello che facevamo frequentava già le consulte là e che insomma aveva una sua iniziativa personale anche su questo e quindi è stato molto bello vederla arrivare a Roma, vederla entrare prima in segreteria e poi arrivare ad essere la prima donna segretario generale lei naturalmente adesso ha 2000 questioni e se la incontro, la incontro in ascensore oppure la mattina quando arriviamo in ufficio e se volessi andarla a parlare non c'è problema insomma però devo dire che a differenza dei suoi predecessori che magari avevano un po' di attenzione per tutte le nostre battaglie diciamo di laicità ma che quando diventavano segretari generali poi si comportavano come se fosse un argomento minore e lei no, per lei sono rimasta in prima linea devo dire che anche come fisicità non so, mi chiedevi di dirti un beh per esempio quest'estate c'erano credo 70 gradi all'ombra l'abbiamo vista nel podio delle varie manifestazioni parlare, porre le nostre difese in momenti in cui anche gli stessi uomini erano distrutti dal caldo cioè ha una forza anche fisica notevole molto invidiabile, molto bello da vedere e quindi ci vorrebbero più Susanna Camusso anche al governo cioè gente forte che comunque ha una certa resistenza ma sicuramente più donne come lei ma sì, forte, coerente, femminile perché poi è femminile non è una donna come dire maschietto no, cioè di solito si può commettere anche lei è molto femminile, siamo andati per il Pride una sera quando c'era il parco qui tutta vestita di nero con una bella collana insomma no, è una bella figura comunque sicura sì, 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 è una bella figura in tutti i sensi non è mai trasandata ama molto il bianco di vestirsi di bianco ha sempre questo simbolo della CGL questa catenina con il simbolo della CGL beh in fondo insomma, credo che sia forse l'anno scorso avrà fatto 4 ore di ferie, riposo mentre insomma noi le nostre ferie ce le siamo anche presi sì, sì, assolutamente no, no, ma io penso che ti ripeto questa era una domanda un po' anche retorica perché comunque io la considero un personaggio molto importante una donna molto importante della scena sociale e politica italiana è veramente è da ispirazione avere una donna come lei nelle istituzioni quindi io mi auguro veramente che possa andare avanti e possa farsi strada essere ad esempio per i giovani visto che purtroppo esempi di donne ce ne sono poche visibili come lei ce ne sono poche quindi benvengano le le Susanne Camusso se ce ne saranno altre e ce ne fossero sì ce ne fossero tante vabbè noi abbiamo anche Emma Bonino sono due tipi diversi però insomma ci sono delle donne in gamba in giro ce ne sono tante magari anche che compaiono meno con posti di grande pesantezza ma meno conosciuti però ci siamo in tante adesso mi è venuto in mente che spesso e volentieri i giovani vorrebbero essere soprattutto le ragazze vorrebbero essere non so la velina la modella però bisognerebbe ispirarsi probabilmente a donne che comunque cambiano la storia o comunque la fanno la storia ed secondo me potrebbe essere molto più produttivo e soddisfacente far parte della politica e della storia per poterla migliorare come sta facendo Susanna Camusso e non magari essere una velina passeggera che può fare la stagione di turno e poi scomparire questo è un esempio diciamo che ci sono degli esempi ci sono delle figure che alzano il livello io ho sempre sostenuto che anche come velina si possa avere un ruolo intelligente c'è tutta questa prevenzione diversi anni fa un'assessora del comune di Napoli fu molto criticata perché aveva istituito un corso per queste ragazze che volevano fare le veline fare le ballerine eccetera io l'ho trovata una cosa molto bella molto intelligente perché è chiaro che il mondo dello spettacolo ha una forte attrattiva ma però andandoci preparate avendo la possibilità di conoscere quali sono i propri diritti anche cose abbastanza elementari e poi credo che appunto non bisogna nemmeno pensare che si fermi tutto lì ci sono c'è un'evoluzione nella vita e penso che anche in quel in quel mestiere in quel campo non sia così assolutamente come dire necessario essere cretine o stupide ecco quindi penso che ci sia la possibilità basta però insomma chiaro non accontentarsi di avere una vita con un senso anche facendo certi mestieri nel mondo dello spettacolo che sono tanto attrattive per le ragazze di oggi ciò non toglie che ovviamente ci sono delle grandi figure che ci in qualche modo ci danno uno stimolo certo certo gigliola senti spesso al telegiornale ascoltiamo di ragazze straniere che sono vittime delle mutilazioni genitali femminili che purtroppo non sono un caso isolato di alcuni paesi africani ma anche in Italia ne sentiamo insomma parlare come possiamo combattere una piaga che deturpa queste donne proprio nell'intimo ma anche nel proprio animo ma questo è un argomento importantissimo perché vabbè noi come diciamo come radicali abbiamo portato avanti Emma Bonino e e altri hanno portato avanti molto bene questa battaglia con tutte le altre donne anche molti uomini a livello mondiale io ho dovuto spesso discutere anche con compagni e compagne ma diciamo con compagni anche della sinistra che si illudevano su come dire versioni della mutilazione genitale femminile addolcite cioè in qualche modo o fate con come dire in locali sanitari oppure comunque attenuate io credo che sia contro la donna una bestemmia in ogni caso e che non vada assolutamente né moderata né edulcorata né consentita in strutture pubbliche per evitare infezioni o altro ma che vada assolutamente cancellata anche dall'immaginario perché è assolutamente inverosimile quello che quello che sottende insomma la donna non ha possibilità di godere di fare sesso insomma non è una visione terribile della donna e quindi non c'è nessuna scusante nessuna diminuzione non non ha importanza se è vero che viene molto spesso fatta in locali antigenici con metodi orribili non ha importanza che ci sia però un ambiente migliore un'anestesia non deve esserci proprio la mutilazione genitale è una prevaricazione comunque dell'uomo sempre anche a livello religioso perché comunque è una prevaricazione nei confronti della donna perché comunque viene fatta a bambine che non possono nemmeno scegliere c'è una violenza bella e buona che viene fatta nei confronti di una donna che in quel momento non ha nemmeno la capacità di potersi ribellare è una follia diciamo che è una follia perché poi ci hanno spiegato che non ha nessuna giustificazione religiosa in realtà che non ne parla il Corano che non è una questione che deriva da un tipo di fede per quanto criticabile ma è proprio pura semplice prevaricazione superstizione ignoranza quindi la battaglia credo che sia ancora lunga nonostante la risoluzione dell'ONU ma credo che comunque sia stata una buona una bella botta all'ignoranza e alla violenza certo Giliola grazie senti Giliola una domanda per concludere la nostra conversazione che purtroppo siamo già arrivati al termine della trasmissione quella donna credi abbia contribuito in passato a dare una svolta in senso positivo alla nostra epoca ti viene in mente qualcosa guarda in passato non so ci sono donne che da da 50 anni si stanno battendo per farci avere una vita migliore abbiamo citato prima Emma Bonino credo che sia come dire persino banale che io ne parli però ci sono anche donne con cui io sto lavorando che hanno portato veramente un messaggio nuovo mi veniva in mente non so per esempio Piacobre chi avrebbe detto 30-40 anni fa quando con Carla Corso iniziarono a parlare di dignità delle prostitute che le prostitute avessero diritto ad essere rispettate come persone cioè sembra da dirle adesso a noi che facciamo politica vabbè è una cosa così però avevo letto la sua storia nei libri che hanno scritto fu un enorme passo avanti nella civiltà fu una rivoluzione che partì da una lettera a un giornale che avevano scritto loro un'altra è la senatrice Merlin mi viene in mente mi vengono in mente delle donne transessuali per esempio che hanno portato un messaggio molto forte noi abbiamo Elena Velena abbiamo tante figure certo avrei potuto magari parlare di Grazia De Ledda di Rita Levi Montalcini però quello lo sappiamo io se lo chiedi a me preferisco parlare di queste donne che hanno fatto una vita intensissima di lavoro e che sono per esempio Pia ma anche Elena insomma sono persone di grande profondità di grandissima umanità e credo che il loro contributo non sia abbastanza valutato speriamo allora che in futuro ci sia magari uno sviluppo maggiore per loro e che comunque contribuiscono quotidianamente al cambiamento di questo paese io Giulio la prima di salutarci volevo invitare tutti i nostri amici web ascoltatori al nostro congresso che si terrà il sesto congresso dell'associazione radicale certi diritti che si terrà a Napoli il 5 il 6 e il 7 di aprile e voglio dire che a questo punto il nostro congresso è dedicato a una grande donna che è Rosa Parks sì Rosa Parks esatto quindi abbiamo già una grande donna che anche lei ha combattuto contro la segregazione razziale ha fatto quel gesto di cui hanno parlato tutti negli ultimi 50 anni si può dire ma da tanto di non cedere il posto riservato ai bianchi sull'autobus e di rimanere seduta lì ed è stato proprio uno dei primi atti di non violenza di manifestazione non violenta nei confronti di di un oppressore che era in quel momento dinanzi a lei quindi invitiamo i nostri i nostri amici a venire numerosi al congresso e speriamo che speriamo che possano possano capire ancora di più qual è l'importanza che la soluzione radicale ai certi diritti vuole dare alle battaglie di diritto e di laicità gigliola io ti ringrazio ancora della tua partecipazione qui oggi e speriamo di rivederci presto e sicuramente ci rivedremo al congresso sicuramente a Napoli tra l'altro il primo giorno è dedicato proprio alla prostituzione e speriamo che riesca ad esserci proprio più a cobre perfetto allora un saluto a tutti ringrazio la regia di Donato Volpicella e buon proseguimento delle trasmissioni grazie ancora a Gigliola Toniollo buona serata grazie a tutti grazie arrivederci grazie a tutti